Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato 800 039 036 E allora in diretta io passerei alla prossima esibizione Paolo Roberto Di Carlo Ebbene sì, terzo gruppo ad esibirsi sono i Black Diamond Le ricordiamo perché hanno vinto la nostra prima edizione, il nostro primo talent Si esibiranno anche loro in un brano inedito, il loro nome è Laco Man Vi chiedo siete pronti, sento che si stanno preparando Settiamo la parte tecnica se ci dà l'ok, se stanno facendo un sound check lieve Bisogna raccontare dei Black Diamond che sono un gruppo giovanissimo La maggior parte sono tutti minorenni, 16 anni l'età media, giusto? Esatto, sono stati i vincitori del contest precedente Abbiamo fatto il 30 aprile in zona Pratone del Vivaro al Noce, il ristorante del Noce Oggi ci siamo, siete pronti? Vi vedo schierati, ditemi voi Ci sei? Pronti, pronti Come va? Tutto bene Ma senti, il palco Piper, dai dammi anche te un... Così giovane già sul Piper Vabbè, siamo contenti di stare qua, soprattutto perché sappiamo che ci sono stati, diciamo, grandi artisti in passato È bello Ti stanno ascoltando? Qualcuno? Vuoi salutare qualcuno che ti sta ascoltando? No, credo, proprio di no Come credo, altra volta le 3 di notte vi hanno mandato gli sms Eh, lo so, ma non credo Ma che senti? È umile, umile, umiltà, umiltà E allora, vai Paolo Roberto Sì, li presentiamo come talenti della notte romana Loro sono i Black Diamond Il loro pezzo è l'inedito Laco Man Sentiamo Radio Radio by Night Roma Radio Radio by Night Roma Presenta i nuovi talenti della notte romana Sono dal vivo Loro sono i Black Diamond It was right at her nose, so the power was very worried And so I tried hard to catch him and got him, got him With me, so water, the air, the psycho man If I were a stupid man, the air, like a man guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Bravissimi, bravissimi complimenti Radio, radio, by Night Roma, 104.5 guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo